La pillola di oggi ha uno scopo preciso, denunciare una situazione che è davvero incredibile ed è inaccettabile in quella che vuole essere una vera e compiuta democrazia, la nostra democrazia. Parlo del tasso di estensionismo, cioè del numero di italiani che dicono che non andranno a votare. È un tasso superiore al 40% a cui bisogna aggiungere l'11% di altri italiani che non sanno ancora per chi votare. Sapete cosa significa? Significa che ben 23 milioni di italiani non andranno a votare e non capiscono l'importanza della scelta storica da compiere da tutti noi il 25 settembre. È davvero incredibile che il 50% degli italiani non voti. C'è da domandarsi, ma siamo ancora in una democrazia? Quindi mi rivolgo a voi che pensate di non andare a votare e a voi che ancora non sapete per chi votare. E vi chiedo, davvero non vi importa che le vostre pensioni o quelle dei vostri genitori siano così basse? Davvero siete contenti di pagare così tante tasse e così alte? Davvero non vi importa di dover attendere mesi o anni per avviare un'attività imprenditoriale, per costruire o anche solo ristrutturare una casa? E questo anche se siete in regola con tutte le leggi e tutti i regolamenti sanitari? Ancora, davvero siete contenti se siete lavoratori dipendenti, che il vostro stipendio venga più che dimezzato dallo Stato che se ne porta via una fetta importante con il cuneo fiscale? Davvero siete contenti se siete stati assolti da un'accusa in tribunale dopo anni di processo, di angosce, di spese, di essere richiamati in giudizio e di continuare ad essere processati all'infinito?